Le ultime notizie sul Superbonus 110% fanno tirare un sospiro di sollievo ad imprese e famiglie. Il risultato è ormai in cassaforte e prevede che il Superbonus resti attivo e senza modifiche sino al 2025, ma soltanto nelle aree che hanno subito i terremoti 2009 e 2016. Questo è essenziale per un sviluppo del nostro territorio, completare quello che è un iter che abbiamo iniziato, intrapreso e non dobbiamo lasciare delle macchie nel territorio non ricostruite, non efficientate ma soprattutto non messe in sicurezza sismica. Io continuo a ripetere che quello del bonus 110 è importante, fondamentale, per noi del cratere ancora di più. Potrebbe permettere di intervenire su quegli immobili che non sono stati oggetto di miglioramento sismico, anche con i contributi emessi perché classificati A, classificati B, C, quindi o senza danni o con danni lievi. In cui si sono fatti dei lavori senza fare però il vero miglioramento sismico. Con il Superbonus potremmo finalmente mettere in sicurezza tutto il nostro territorio, che come abbiamo visto anche ieri purtroppo continua a subire del territorio nazionale, continua a subire degli scuotimenti sismici come purtroppo è successo a Perugia, per fortuna senza danni però ci sono ancora eventi in continuazione. Per quel che riguarda i lavori all'Aquila si fa il punto con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Sono molti i lavori di Superbonus 110% autonomo che non si sovrappone ai lavori della ricostruzione. Sono tanti gli interventi che si stanno portando avanti, forse un po' meno quelli sovrapposti con il bonus, bonus terremoto, più numerosi sono quelli soltanto del bonus del 110% che stanno andando avanti da soli, diciamo senza sovrapposizione con i contributi. Anche questi hanno subito un po' di rallentamenti, un po' di stop anche in fase di progettazione, ma anche in fase di esecuzione. Avere una prospettiva di poter allungare i termini fino al 2025 permetterebbe a tutti quanti di poter portare a termine lavorazioni intraprese o che si sono bloccate proprio prima dell'inizio dei lavori.